Confine di Claviere, il ministro Salvini replica le autorità francesi, l'aria è cambiata, scrive su Facebook, d'ora in poi controlli delle autorità italiane e la polizia in presidio. Noi torniamo a parlare delle tensioni lungo il confine italo-francese a Claviere perché non si placa lo scontro tra il ministro Salvini e le autorità d'oltrealpe. I poliziotti sono stati inviati dal Viminale a controllare l'identità dei migranti che la Francia vuole respingere al servizio di Davide Piriocos. Basta sconfinamenti, sarà la polizia italiana a verificare l'identità dei migranti respinti dalla Francia. Torna su Facebook il ministro Salvini, pubblica le foto dei poliziotti italiani mandati al confine a Claviere e risponde così alla nota della prefettura dell'Eutalpe con cui i francesi rivendicano la legittimità del respingimento di venerdì. Di mattina mostrato in questo video il piazzale in questione si trova a pochi metri dal confine e viene utilizzato perché è il primo spazio utile dove fare manovra. Per la Francia la procedura è stata regolare perché il commissariato di Bardonecchi è stato avvisato con una telefonata. Il ministro Salvini però non ci sta. La telefonata dice è stata tardiva e soprattutto scrive l'aria è cambiata. Salvini prende così le distanze dai protocolli accettati dai precedenti governi e chiarisce che ora tutti i migranti che la Francia vuole respingere dovranno prima essere controllati dalle forze di polizia italiane. Se a Claviere la situazione resta tesa a Bardonecchia dice il sindaco Francesco Avato il clima è invece più disteso. Dopo la illegittima eruzione a Pasqua dei doganieri francesi nella sede della Onlus Rainbow for Africa per sottoporre a un test antidroga un migrante ora non si verificano più sconfinamenti. I francesi, spiega il sindaco, fermano gli irregolari oltre confine al piazzale del traforo del Frejus e sono le autorità italiane a riportare indietro che non può passare. Protesta Notav a Chiomonte davanti alle reti che proteggono il cantiere della nuova ferrovia Torino-Lione. hanno liberato in cielo con palloncini rosse o i fogli di via ricevuti nei giorni scorsi da decine di attivisti i provvedimenti emessi dalla Questura di Torino, ma noi continueremo ad esserci, hanno commentato gli attivisti che hanno pubblicato sui social network le immagini dell'iniziativa che vi proponiamo. Per domani ne è stata annunciata una analoga a Giaglione. Per domani ne è stata annunciata una analoga a Giaglione.